Siamo di nuovo con Andrea Daluca, mentre mi arrivano immagini di questo Andrea Daluca impegnato, credo, a letto con un transessuale, se non sbaglio, immagini che credo lui stesso mandi. C'è proprio un bavaccione. Allora, però, Andrea, a me non mi interessa, per me va benissimo che tu faccia. No, c'è un bavaccione. Passami tuo padre, passami tuo padre, passami tuo padre, passami tuo padre. Non me ne frega niente, gli rito i soldi, non ti preoccupare, 50 euro, va bene, 50 euro, 50 euro. Sì, aspetta. 50 euro, dimmi. Aspetta, aspetta. Antonio, ha detto 50 euro, so, troppo, è Giuseppe. Chi è? Antonio, lo chiama del nome? Scusi, lei è fascista? Io, come se ho fascista, mi fai del 12, ha fatto la guerra in Etiopia. E che cazzo vuol dire? Aspetta, 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 fammi sentire. Come che cazzo vuol dire? Come che cazzo vuol dire? Ma come che cazzo vuol dire? Ha fatto la guerra in Etiopia, che cazzo vuol dire? No, no, ma calma, 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 io voglio parlare. Aspetta, aspetta, caro amico, come ti chiami innanzitutto? Sei il papà di Andrea? Ma poi lo scemo giù. Ascolta. Sei il papà di Andrea o no? Sei il papà di Andrea o no? Che cazzo se ne prenda? Vabbè, ma è Parenzo. Vabbè, d'accordo, è Parenzo. E Parenzo è un pezzo di merda. Vabbè, d'accordo, d'accordo. Perché lui che ha fatto la guerra? Va bene, d'accordo. E lei è un fascista del cazzo. Ma sempre raccontato vicino a me, mi fa, figlio mio. Allora, non ha capito. Mettiamo le cose in chiaro, perché le voci si confondono. Lei chi è esattamente? Come si chiama? Il papà di Andrea. Di nome come? Di nome, lo sapete? È inutile che me lo volete fare dire. Antonio, Antonio, Antonio. Molto bene. Allora, io l'ho vista in azione, se è lei. Lei che fa di mestiere? Tutto. Vabbè, dai, non faraccialo stupido. Tutto! Faccio tutto, Dio cari! Eh, sì, vabbè, d'accordo, lo sapevo, era chiaro, no? Cioè, era scontato, era scontato. Ma... Ma... Era scontato. Era scontato, era scontato, era scontato. Che schifo. No, era scontato. Chiudilo, basta. Chiudilo. Via, via, via. Chiudilo sto maledetto, chiudilo. Daniele da Pescara. Mamma... Daniele, ma era scontato, l'ho detto prima. Pronto? L'ho detto prima. Ah, beh...